Adesso gli americani veramente non hanno più scuse. Se votano per Kamala Harris, beh, significa proprio che sono mentalmente disturbati. La notizia del giorno, infatti, è l'abbandono della corsa alla Casa Bianca di Robert Kennedy Jr., il figlio di Bob e quindi il nipote di JFK. Personalmente non ho mai nascosto le mie simpatie per Robert Kennedy Jr., una delle poche persone al mondo e forse l'unico politico che ha avuto il coraggio di dire la verità sulla pseudopandemia. Certo, una verità che tutte le persone con cervello conoscevano perfettamente, ma che pubblicamente non si poteva nemmeno accennare. Il 13 novembre del 2021 ero all'Arco della Pace a Milano per applaudire Robert Kennedy Jr. e dovete sapere che non sono molte le persone per le quali ho ritenuto doveroso da parte mia scendere in piazza per tributare loro il mio applauso. Anzi, forse mi è successo soltanto per un'altra persona, più che una persona, direi un monumento. Mi riferisco all'immenso professor Luc Montagnier, persona alla quale non potevo far mancare la mia così sconfinata stima personale. Quindi non sarei mai mancato neppure per tutto l'oro del mondo, sempre a Milano, in piazza 25 aprile, il 15 gennaio del 2022. Io mi sono letteralmente spellato le mani per applaudirlo. Ripeto, un monumento. E forse per la prima volta, anzi per la mia unica volta, mi sono commosso al cospetto di una persona. Comunque, torniamo a Robert Kennedy. Perché magari molti di voi davano per scontato questo gesto da parte sua e il suo sostegno a Trump? Ebbene, personalmente non avevo queste certezze. E quindi sono ancora più compiaciuto per questo che, attenzione, guardate, non vorrei esagerare, ritenendolo un evento storico. Certamente comunque è qualcosa di una enorme importanza. e questo indipendentemente dall'esito che avranno le elezioni negli Stati Uniti. Il gesto di Robert Kennedy, ossia l'appoggio a Trump, è forse il segnale più evidente, più emblematico di quanto questo mondo, in questi ultimi trent'anni, si è stato messo sottosopra e governato in maniera folle. Per tutti, la dinastia Kennedy è l'emblema della politica americana. E la dinastia Kennedy era indissolubilmente legata al Partito Democratico. Ma attenzione, al Partito Democratico degli anni Sessanta, oggi anche John Fitzgerald Kennedy sarebbe un repubblicano. Da Clinton in poi, infatti, il Partito Democratico ha intrapreso una china rovinosa. E' stata disastrosa l'amministrazione Clinton, catastrofica quella Obama, inqualificabile quella di Biden. L'aver abbracciato in toto l'ideologia woke ha portato questo partito ad essere, ripeto, qualcosa di inqualificabile. Basti dire che presenta come candidata alla Casa Bianca un personaggio indecoroso, una totale nullità. Anche un sondaggio fatto in fretta e furia, se non sbaglio, dalla CNN, ha dato un risultato inequivocabile. E' stato chiesto ai telespettatori a quale dei due principali candidati avrebbe giovato l'abbandono di Kennedy Junior. Ebbene, l'abbandono alla Corsa alla Casa Bianca, ovviamente. Ebbene, l'89% ha risposto che avrebbe giovato a Trump e soltanto l'11% alla Harris. Quindi è chiaro che gli americani che avrebbero votato per Kennedy hanno idee politiche molto distanti da quelle della Harris e invece sono molto più in sintonia con Donald Trump. Ripeto, questo non è un fatto da sottovalutare. I Kennedy che prendono le distanze dal Partito Democratico. Non si tratta di una notizia da poco. E' un fatto, a mio avviso, eclatante. E se Trump ha già fatto sapere di voler riservare a Kennedy Junior un posto non secondario all'interno della sua amministrazione significa che di lui si fida ciecamente. D'altronde, si sa che i due si conoscono da anni. Insomma, io sarei davvero curioso di vedere all'opera nell'amministrazione Trump non solo Kennedy Junior ma anche Elon Musk. E a proposito di Elon Musk, veramente, qui i democratici hanno raggiunto il massimo della loro sfacciataggine lamentandosi appunto perché il titolare di X, cioè l'ex Twitter ha manifestato il suo appoggio a Trump. Bisogna veramente avere una spudoratezza senza confini. Questi hanno in mano tutte le reti televisive nazionali. La CNN, l'ABC, la CBS, la CNBC, eccetera, eccetera. Hanno in mano tutta la carta stampata. Il Washington Post, il Wall Street Journal, il New York Times, eccetera, eccetera. Hanno in mano tutto il web, Google, YouTube, Facebook, Whatsapp. Insomma, tutto hanno in mano tranne Twitter e loro inveiscono contro Elon Musk sentendosi per questo penalizzati. Veramente, davvero, i democratici hanno una spudoratezza senza confini. Ebbene, a mio avviso i sondaggi non contano quasi nulla. I democratici potrebbero vincere queste elezioni e quindi Kamala Harris potrebbe diventare presidente esclusivamente come lo è diventato Joe Biden, o si ha con i più spudorati brogli elettorali. Brogli elettorali nemmeno smentiti da Barack Obama che tuttavia li giustificava perché, come ha detto più volte, anche dall'altra parte si fanno. Insomma, per Obama è normale che se le elezioni si decidono con i brogli, beh, è giusto che vinca chissà imbrogliare meglio. Tuttavia, ripeto, questa mossa di Kennedy Junior potrebbe davvero dimostrarsi definitiva per far pendere la bilancia a favore di Donald Trump. Una futura amministrazione Harris sappiamo con certezza che si rivelerebbe una catastrofe per il mondo intero. Una futura amministrazione Trump non lo sappiamo e la sola cosa che mi sento di dire è che mi auguro sia in grado di salvare il mondo intero dalla catastrofe.